il prodotto tra due polinomi il prodotto tra due polinomi è il polinomio che si ottiene moltiplicando ogni monomio del primo polinomio per tutti i monomi del secondo polinomio e riducendo eventualmente i termini simili cioè quelli che hanno la stessa parte letterale quindi dobbiamo moltiplicare il primo monomio per tutti i monomi del secondo polinomio e poi il secondo monomio per tutti i monomi del secondo polinomio quindi andiamo ad effettuare queste operazioni moltiplichiamo il primo monomio per i tre monomi del polinomio in esame più per meno, meno poi abbiamo un mezzo 1 per 1, 1 2 per 1, 2 poi x per x al quadrato x alla terza e abbiamo moltiplicato il primo monomio per il primo monomio andiamo a moltiplicare questo per questo quindi più per meno, meno 1 per 4, 4 2 per 3 fa 6 poi andiamo a moltiplicare la parte letterale x per y xy e abbiamo moltiplicato il primo per il secondo andiamo a moltiplicare il primo monomio per il terzo 1 per 1, 1 vabbè più per più più 1 per 1, 1, 1 un mezzo x adesso dobbiamo procedere a moltiplicare il secondo monomio per i singoli monomi del secondo polinomio quindi dobbiamo moltiplicare meno per meno più 3 per 1 è 3 4 per 1 è 4 andiamo a moltiplicare la parte letterale y per x al quadrato quindi viene x al quadrato y abbiamo moltiplicato quindi meno 3 quarti y per meno x al quadrato viene meno 3 quarti x al quadrato y poi dobbiamo moltiplicare questo per questo meno per meno più poi abbiamo 3 per 4 è 12 4 per 3 è 12 andiamo a moltiplicare la parte letterale y per y, y al quadrato andiamo abbiamo finito pure questa seconda moltiplicazione andiamo a moltiplicare adesso il monomio meno 3 quarti y per più 1 quindi meno per più fa meno e quindi farà 3 quarti y a questo punto occorre procedere alla riduzione dei termini simili invece purtroppo qua non abbiamo termini simili perché non abbiamo monomi che hanno la stessa parte letterale quindi possiamo solo procedere ad eventuali semplificazioni 4 sesti qua dividendo per 2 abbiamo 2 terzi 2 terzi e poi 12 e 12 1 che non andrebbe neanche scritto perché quando la parte numerica è uguale a 1 non si scrive abbiamo così concluso il prodotto di questo polinomio per questo polinomio è uguale a 1